Ciao a tutti, sono Roberta Cipolla, ho 24 anni e vengo da Bari. Sono laureata in lettere e cultura teatrale e sto ultimando la magistrale in linguistica moderna. Ho sempre amato il mondo della recitazione e del canto sin da quando ero piccola. Infatti, quando andavo all'asilo e alle scuole elementari, mi stringevo le mie amiche a fare dei piccoli spettacolini a casa e, diciamo, obbligavamo tutti i nostri parenti a vederci e a farci gli applausi. E quindi là volevo fare la regista, volevo fare l'attrice, volevo fare tutto io. Poi ovviamente crescendo ho capito che ovviamente bisogna studiare per poter realizzare tutto ciò. La mia più grande passione dopo la recitazione è il musical, infatti lo studio da svariati anni. Il mio musical preferito è Il fantasma dell'opera, infatti non perdo mai occasione di andarlo a vedere. Mi piace molto lavorare nella resina, fare le candele. Sono un pochino i miei hobby per rilassarmi, per staccare dall'università, dal teatro e tutto il resto. Sono anche molto legata alla mia famiglia, ai miei amici. Ci tengo davvero tanto alle relazioni umane, sono parte di me. Ora mostro i miei profili. Grazie. 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 Grazie.